In Curia, nel quartiere 25 Aprile di Bassano del Grappa, a segnalarlo un residente telespettatore di Rete Veneta. Le fotografie, inviate dalla nostra redazione, immortalano un lungo tratto dell'area verde, dominato da erba alta e piante incolte. Un mancato sfalcio lungo il perimetro della pista ciclabile e il campo sportivo che i cittadini chiedono di sistemare con le adeguate manutenzioni.